Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa di datterini gialli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono pomodorini datterini gialli, olio evo, sale e basilico. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i datterini gialli ed azionare il bimbi per 5 secondi a velocità 7. Togliere il misurino, posizionare il cestello e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Posizionare il misurino ed omogenizzare per un minuto da velocità 6 a velocità 10. di unire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere l'olio, il sale ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3. la salsa è pronta per essere utilizzata. salsa di datterini gialli si conserva in frigo per tre giorni è possibile congelarla grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.